Il teatro, ci siamo, ci siamo ragazzi. Tutto adesso torna. Che si fa quando lo troviamo? Eh, lo facciamo fuori. Eh, che non deve essere semplice. Ma proprio per niente. Allora, io, boh, andrei di qua. Boh, qua veramente... Qua la porta sarà chiusa sicuro. Non c'ha niente Abbey, non c'ha la torcia. E lo zaino, non ha nulla. Il che è anche meglio così. Ecco la... la soluzione. Ok, prendi la scala. Pronto. Molto gentile. Ok, così ti muovi un pochino. Va bene. Eh, voi che proprio l'avete lasciata qui, siete proprio dei geni, eh. Qua è dove Dina ha vomitato. Ma l'hanno pulito il vomito, vero? Sì. Ah, le foto. Sono le foto di Abbey. Sono tutti gli obiettivi, no? Perché... Manny. Melle Hoven. Abbey Hoven. Esattamente così. Ci sta seguendo. E adesso si è ribaltata la situazione, ragazzi. Per forza. Ricordo che di qua si andava giù, giusto? Sì. Calma ora. Resta vicino. Molto suspanso questa cosa, eh. Certo, anche vuoi lasciare... È lì, però. Cioè, lasciare la scala lì. Devi essere veramente un genio, eh. Genio incompreso. Dove sei? Aurora... Aurora... Tum, 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 tum. Cecchino. In realtà, è il nostro vecchio Tommy. Stai commettendo un errore. Non girarti, cazzo. Lev tiene la tiro. Giù a terra. Mi uccidi come una codarda. Scena già vista, ragazzi. Ma dall'altra parte. Oh, gli ha fatto il liscio. Su le mani, io sparo anche a questo. E non ascoltarla, Ellie. Jesse proprio fatto fuori subito. Non provarci, cazzo! Chiudi quella fogna! Cazzo, va bene. Fermati! Basta! Getta l'arma. Getta l'arma! Cazzo! No. So perché ha ucciso Joel. Ha fatto quello che ha fatto per salvarmi. È colpa mia se non c'è una cura. Sono io quella che cerchi. Lascialo andare. No. È così che la paghi, capito? E ci ricambiate così. Aspetta! Lascialo andare! Tommy! È morto Tommy! Andiamo! È morto Tommy, raga. Così! Questo non era successo prima. C'è nella cutscene nel seto dei tre di Ellie non si era visto. Non scappare, cazzo! Ok, tanto ti piglio. Tanto ti piglio lo stesso. Ok, va aperto quel portone lì. Noi nel caso premiamo triangolo. Siamo senza armi, cazzo. Perché muoviti che sei senza armi. ecco ti consiglio. Via! Dicevo anche la mia ragazza questo, però era un gesto dolce, doveva essere quello. com'è la chiappo? Com'è la chiappo, raga? Ok, tipo quello sconto nel ristorante alla fine della stoffa 1. Ok, questa è molto importante. Dove vai? vieni qui. Vieni qui. Ok. Bene così. brava. Cioè, brava insomma. Ok, si sfonda al pavimento e vanno giù. Pure il fucile adesso. Minchia, oh. Dove cazzo passavo? Se no. Ok, c'è un kit medico o qualcosa? Se forse è questo. Do sei? Sparita. Sparita. Dov'è? Dov'è? Aspetta che arrivo. Che ansia, raga. Che super ansia. Ok. Era tipo di là. Tipo, eh. però se non vieni fuori zia io posso fare poco. Eccola. Eccola. Ok. Era lì. Andrebbe presa dal dietro. Purtroppo non basterebbe. Eccola. Eccola. Quando colpisco? Cazzo. Cazzo. Merda. Ho sentito. che fassi droga? Eh, per forza. Non c'è da camminare su tipo questi queste travi di legno, vedi? No, sul legno sì, sulla porcellana non c'è da camminare, ok? dai, fatti vedere! Col cazzo. Ma come cammini, zia? Non ha più l'arma? Adesso ce l'ha. Adesso l'ha messa via. Adesso torna. Ok. Ce l'ha attaccare in questo raggio qui. Lei ha sempre il fucile addosso. Perché cambi destinazione vaffanculo? È lei che l'ha mosso. Oh, bene così. Bene così. Via. Ce l'ha ancora il fucile addosso, mi sa di sì. Ok, c'è a mettere... C'è a aspettare che metta via l'arma, ho capito. Oh, cazzo. Merda. Restata. Schiaffo. Quanta crudeltà, ragazzi. Fai scappi. Non ce la fa. Come ce la fa? È possibile che ce l'abbia fatta. l'arco adesso. Capito. L'arco. L'arco. Che diavolo combina? L'arco è peggio. Anche perché lei lo sa usare molto bene. È quello il problema, è che se ti piglia, ti piglia. Che diavolo combina? Ok. Presa? Presa? Raga. Masterclass sulla bomba proprio. Sta fabbricando la bomba e l'ho presa così. Dai. 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 Dina. Aia. 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 Lev. Ha ammazzato Dina. Fermati. Lei non c'entra a niente. È incinta. Anche Meller è incinta. bella questa copertina qui. Diciamo che un po' te la sei andata a cercare, eh. Giusto un pochino. Non è per prendere difese di... di Abby, però. Dina non è stata traffitta in un punto mortale da Lev. E qua... secondo me tornavo con Ellie per forza.